Siamo in giro ormai da tempo immemore e questa sera portiamo su questo palco qui, nella nostra bella Foggia e in questo teatro dedicato a uno dei vostri più famosi musicisti che è Giordano portiamo quello che stiamo portando in giro per l'Europa, per il mondo, quindi un mix di jazz e soul e l'energia che per fortuna insomma ci accompagna sempre con questa banda di musicisti matti a Babbo Natale chiedo sempre una cosa, dico Babbo Natale non ti chiedo regali, cose particolari io ti chiedo sempre una cosa sola, un poco di tranquillità e serenità e gioia per la mia famiglia e per le famiglie di tutti al mondo un bel saluto a tutti voi amici di Foggia, amici del Teatro Giordano dove sicuramente avremo passato una serata bellissima, con certezza la mia famiglia di archività e quindi un dubbio井 a tutti i nostri amici diritto a tutti i nostri amici di Bicci a tutti i nostri amici del PBI andiamo a tutti i nostri amici di Dima a tutti i nostri amici di San G Alessandro